Ci sono tanti siti, ma spintifo, con gli ortaggi, lo sapevate? Io non avevo idea che alcuni ortaggi sul cervello maschile facessero un effetto così incredibile. Sarà un sesso per vegani? Non lo so. Questo bicchierone dalle 18, la piower, con lo sguardo che sembra Kimme Sepia, Kimme Sepia, che viene anche un po' d'angoscia. Avete voi lo zenzero a casa? Perché se uno non ha a casa almeno un pezzetto di radice di zenzero, è un poveraccio. Simulato un orgasmo. Au! Au, au! È il multiplo. Dov'hai a farti il vaccino? Ma non eri Novax? Ah, per andare a manifestazione dei Novax ci vuole il Green Pass. La donna ha una data precisa di nascita e precisa di scadenza. Quelle che voi scambiate per smagliature, non sono smagliature, è il codice a barre. Italiana brutta vestaglia. Molto bene, baby doll. Evi svegliato pure il signore, vabbè. Io non l'avevo capita, cioè so proprio un po'. Quella in cui c'è quel signore che gira e dice, avevo fame, avevo sete, ho sentito un rumore in garage. Che uno dice, ma questo alle tre del mattino, ma che cazzo va cercando in giro per casa? E' consentito ridere, ma non tutti assieme. E dunque quando ridono gli spettatori delle file pari, non devono farlo quelli delle file dispari, e viceversa. Perché la risata è contagiosa. Dovete imparare un po' di francese. Che voi poi, ma non come farebbero le mie amiche, c'è un corso triannale a San Luigi dei Francesi. No, ai nostri uomini bastano sei parole. Cherie, mon cherie, amour, tartufon, tres e gue, e quando vuoi proprio strafare, carrefour. Grazie. Grazie.